Vai? Vai col nonno? Dove vai, amore? Wow! Ciao, amore! Ciao, ciao! Non mi caga di striscio quando devi uscire. Allegica al prosciutto. Sono menticata. Ma si mangia il primo? Che hai fatto? Pennette, panna e prosciutto. Mia mamma è allegica al prosciutto. Nonna ci fa vedere come togliere i pelucchi dai pantaloni. Vai mamma, dai pantaloni e dagli indumenti in generale. Prendiamo un rasoio e voilà! Pelucco papìa! Wow! Nonna! Nonna, cosa fai? Togli i pelucchi! Nonna! Tocchi! Pelucchi! Nonna, che toglie? Tocchi! I pelucchi! Guarda quanti li toglie! Pelucchi! Adesso parliamo di una cosa con cui noi abbiamo molta familiarità, che utilizziamo tutti i giorni, più volte al giorno. Di che cosa sto parlando? Dei pantaloni, ovviamente. Noi utilizziamo questi Lillidoo ormai da tanto tempo e ci troviamo benissimo. Sia questa è la versione classica, queste sono mutandine, sia la versione green, super ecologica. Perché Lillidoo ha deciso di creare un apposito codice per le mie followers, che vi darà sull'acquisto del pacchetto prova una crema emolliente in regalo. Quindi basta andare sul sito Lillidoo, selezionare il pacchetto prova che voi preferite, può essere quello green o può essere quello classico, e dopodiché inserire al momento del pagamento nell'apposita box il codice che vi lascio qui, scritto sul sito Lillidoo e la crema in regalo. E' buono o no amore? Non ti vedo convinto. Ah, allora è buono il parmigiano. Com'è? Com'è? Buono? Buono. Buono. Vieni giù. Bimbo, giù ho detto. Bimbo. Ehi, giù, forza. Vieni. Vieni. Tu te li guardi papà. Stiamo tornando a casa e questo è ufficialmente il viaggio in cui io mi sono resa conto che ormai non è più possibile, non è più possibile viaggiare con nodo per 5 ore. Cioè è una roba estenuante, avvilente. Ecco, lo sentite. Non vuole più restare qui chiuso nel salottino, vuole girare per il treno, neanche più i cartoni lo tengono fermo. Quindi no, basta, ha finito l'ultimo viaggio di 5 ore con lui. Il prossimo o in aereo o non so. Amore, come si chiama? Come si chiama questa che stai mangiando? Carota. 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 Com'è? Ecco, lui fa un piccolo circuito. Sale. Si lancia. E adesso? Guardate la concentrazione che metterà. Ah no, ha visto il lupo? Un gattino, infatti. Altro che il lupo, è un gattino. È un gattino, tuo padre, non è un lupo. È un miau. ed è un gattino. No, è un gattino. Oh no, è un gattino. Oh no, è un gattino. Il mio padre è stato castrato. Grazie.